Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video Oggi siamo stornati su un nuovo episodio di Minecraft Ma volevo ringraziarvi Domenica c'è stata la 12 ore di beneficenza che abbiamo realizzato sul mio canale È stata una bella maratona, ci siamo divertiti, sono stati tanti ospiti C'è stato Pisolo, c'è stato Bacce Ci sono stati la maggior parte dei ragazzi del mio team di sviluppo di Aster Insomma abbiamo fatto una bella live corposa Abbiamo parlato di tantissime cose, abbiamo fatto altre tantissime cose E soprattutto abbiamo raccolto 380 euro da donare alla Croce Rossa Al comitato del mio comune della Croce Rossa per fronteggiare l'emergenza Covid Certo è una goccia nel mare ma anche noi abbiamo provato a fare la nostra parte Quindi volevo ringraziare tutti i ragazzi che sono passati Sono passate veramente tantissime persone Volevo ringraziare tutte le persone che hanno donato Perché davvero ci sono state tantissime donazioni Sono stato veramente contento di aver ricevuto un supporto del genere Quindi veramente un grazie Un grazie da parte mia A tutte le persone che hanno contribuito Che semplicemente hanno condizionato la live Che hanno voluto passare una, due, tre ore Insieme in compagnia di tutti Della chat e compagnia mia Degli ospiti che ci sono stati Che cosa abbiamo fatto durante questa live Perché effettivamente abbiamo fatto un recap Volevo anche dirvi Questo è il venticinquesimo episodio Non sarà XXL Perché non ce l'abbiamo Non ce l'abbiamo fatta Cioè no, non ce la faccio a registrarlo Lunedì non è uscito un video Perché era benedì Abbastanza stravolto da 12 ore di live Anche perché comunque ho tanti altri impegni E YouTube è un Diciamo un hobby per lo più adesso Comunque, comunque Per l'XXL dovremo necessariamente Aspettare il trentesimo episodio E facciamo un episodio Qui facciamo il recap di quello che abbiamo fatto La live e finiamo alcune cose Allora, allora La prima cosa che abbiamo fatto È stato andare a farmare Con i letti che abbiamo distrutto nel Nether La netherite Con la netherite abbiamo fatto due picconi Uno qua e questo qua Abbiamo ancora tre scrapes di netherite Con cui potremo Tranquillamente crearci Ma magari la spada Vettorino Quello che è Quindi bene Siamo morti soltanto una volta in 12 ore Il che è un record per il mio canale Lì è sponato un scriveraccio Andiamo a letto Better Dopodiché abbiamo farmato Abbiamo progettato insieme a Bisolo La farm di libri incantati A un smeraldo Però per fare una farm del genere In tutti i casi servivano un po' di smeraldi iniziali Per poter fare i primi trade Pertanto ci serve una farm di smeraldi E quella là che vedete È una farm di carta da scambiare Con gli smeraldi GG Direi Vediamo se lo prendo da qua Pam Sì Uno Mi serve un arco più potente Perfetto Comunque Dicevo Abbiamo fatto la farm di smeraldi Che è da completare ancora Gli ho chiuso che non mi piaceva Qui va sistemicchiato un attimo Giusto per Ho messo questa Non mi convince Non la metteremo solo ghiaccio Solo ice Questa è la farmona Manca il sistema di raccolta Di questa farm Effettivamente Che funzionerà nel seguente modo Cresce 3 E si update No? Esatto Cioè cresce questo E questo si update Perfetto Così che avremo una buona quantità Proprio vedete quante ce ne sono Cioè se io vado qua e farmo così Già sono tante Però la dobbiamo rendere automatica Dobbiamo mettere Per renderla automatica Dei minecart con hopper Che passano sotto Suotano E un punto di raccolta Qua sotto Non è minimamente difficile Però è stata una cosa Che dovevamo costruire Che abbiamo fatto E che dovevamo fare L'abbiamo fatta Tutti belli Tutti felici e contenti A questo point Già mi sono fatto Un stack Però sono 3 smeraldi Cioè voi capite Che la quantità Deve essere massiva Perché così Davvero ti sei fatto Delle smeraldi Vabbè ci hai messo una puntata Vai dalle smeraldi Non va bene Dobbiamo farmare massivamente E il metodo per farlo È appunto Renderla automatica A questo punto abbiamo costruito Anche questa stradina qua Perché hai radice Che ce fa in cazzo Giusto perché Dovevamo andare avanti Dovevamo costruire E colonizzare nuove cose E fare nuovi collegamenti Abbiamo costruito la stradina Questa fine live Più o meno Andiamo avanti Di quando abbiamo fatto Modifiche degne Di nota In verità No Andiamo Dall'altra parte Della casa Perché abbiamo realizzato Che cosa abbiamo realizzato Oltre a A dare una sistemata Al sistema di trasporto Perché adesso È collegabile Quasi Abbiamo fatto questa armata Che sta rientrando Da una possibile missione Poi dovremo Aggiornarlo più carino Parecchi di voi Mi hanno detto Prima certo Lo potevi mettere Al contrario Ricordavano verso il mare Effettivamente potrebbe avere senso Un po' magari vediamo Volevo portarvi A questo punto A vedere Quello che vi dicevo La farm Cioè il sistema di collegamento Che sta da sta parte Deve essere ancora completato Però Abbiamo fatto una buona parte Cioè abbiamo messo le plate Abbiamo messo L'acqua Abbiamo diviso già in due Non è malvagio Ci serviva Un sistema di trasporto Su rotaia Perché dovremmo necessariamente Porca miseria Quanta batteria a testa Mi distrugge sta cosa Ok Questo è il sistema di trasporto Ci sono messo un po' di torce Qua è molto buio Ok Se non spawna qualcuno So che azi Vediamo un po' Vediamo un po' Vediamo un po' Metterne uno qua Ok Adesso va sicuramente meglio Vedete Questo è il sistema Che porta soltanto in input Qui fa tutti i vari giri Comunque non è un problema Perché un item droppato Qua e qua Arrivano tranquillamente A destinazione Poi si ricongiungono La cosa carina Ah qui si blocca Qui si blocca Si blocca C'è che lo si blocca Come adesso fa a farci Non può Figa Se non può non può Ah e si blocca anche qua Ok dobbiamo migliorarla Staparte E non l'avevo provata Perché questa curva la fa Questa qua poi Cioè Non lo fa Però va bene Ok Dovremmo sistemare Sistemeremo Basta portarmi Un Un Cosa Un secchio Qui c'è tutto il sistema E già potremmo potenzialmente Collegare Why not Al ferro Qui ci mettiamo un hopper E magari No In verità Non ci volevo mettere l'hopper Ci volevo fare un sistema Anche magari di risalita O con le bolle Tipo Sale ci porta Il tutto in cima Che sarebbe carino Secondo me Che ce lo porta Tipo su in cima All'ice Al coso Qua Non lo so dove Dove arriverà Però magari lo facciamo arrivare qui Tipo Lo facciamo salire Col sistema di bolle E poi da qua Hopper Minecraft Casa È un sistema particolarmente Complesso Forse inutile Cioè nel senso Si può fare roba Più figa Più figa no Nel senso Più efficiente forse Però a noi che ci frega Cioè vogliamo fare le cose anche carine esteticamente Se c'è un Minecraft che mi arriva a casa Il primo pezzo lo facciamo veloce Il secondo pezzo lo facciamo col Minecraft A senso Secondo me abbiamo talmente tanto ferro Che non ci frega un cazzo Questi li gireremo Ok ragazzuoli A questo punto Possiamo Ho girato tutti gli armor stand Ci ho messo un botto di tempo Possiamo andare a fare il sistema di raccolta Per il sistema di raccolta Che cosa ci servirà Ci serviranno Ci serviranno Uno Minecraft with hopper Ok Tac tac Eh al contrario Ci serviranno parecchie rail Non lo metto in dubbio Powered rail Sei sono poche Sicuramente sono poche Ci serviranno Alcuni blocchi di redstone Possibilmente Sì Possibilmente blocchi di redstone Facciamo così Tac Perché la spinta Non durerà Cioè dobbiamo dargli Una spintina extra Ogni tanto Ah sei Guarda Sei potrebbero bastare Dico la verità Alla fine Potrebbero bastare Ci servirà un hopper Per raccogliere la parte finale Che un paio Giusto per fare Rendere il tutto più veloce Sì Sì Un paio Un paio ci sta Un paio ci sta E una chest Una doppia cassa Per raccogliere Todo Quindi uno Due Tre Quattro Abbiamo fatto crescere Un albero di quelli giganti La cosa fighissima Abbiamo fatto crescere Un albero Di quelli giganti Là sopra E tipo è spungato il pozzol Ma a caso Ma da solo Vabbè Pezzo simpatico Il live Se volete andarla a rivedere Ci servono i blocchi Scherzavo Mi servono Mi servono Mi servono Mi servono Mi stone brick Dai Ok ragazzi È passato tanto tempo Dall'ultima clip In verità Oggettivamente Molto E che cosa ho fatto Ho allargato Questa parte sotto Per forza Necessità Impellente di allargare Perché se no Stavo scomodo Non ci passavo Abbiamo fatto questa parte Siamo pronti In verità A mettere poi Quello che sarà Fondamentale fare Cioè Il sistema che gira Perché Immaginiamolo Lui parta da là Lui deve fare un giro Qua Quindi questo pezzo Deve essere collegato Tornare là E sbattere Quindi tornare indietro Girare lì Arrivare qua Sbattere e fare tutto Il percorso indietro In modo tale Da avere Tutto quello che Gli serve a portata di mano Che cosa ci serve ora Vedi Che poi vengono droppate A farsi lavorarci Qua queste vengono droppate Nessuno le raccoglie Dobbiamo raccogliere Infatti noi Va bene Va bene Va bene Sarà una buona farm Questa Fidatevi di me C'è stata un'evasione Massiccia di polli Ogni tanto esco Fanno come gli appare Ma va bene Che sia così È carino Mi piace Che sia così Poi non andate dentro Anche perché secondo me Non fate una bella vita Allora ragazzotti Che cosa ho fatto Ho sistemato potenzialmente Questa parte qua E anche la parte generale Sopra Ve la devo far vedere Sono venuto qua Dice ok Facciamo il clock qua Perché Boh la parte Sto andando random Il video uscirà È ritardissimo Io sono fuori fase E tutto il resto Perché devo riprendere Ancora I ritmi Ma Ma Che cosa È successo Ok Avete idea di quanto ferro è Non so se c'è idea Ma è veramente tanto Ve lo dico io Allora dobbiamo fare Un sistema doppio Di smistamento E non so se si può fare Ma penso di poterlo fare Del tipo Non lo so come Da una parte o dall'altra Magari con Non so se si può fare Random Mica un sistema random Mettiamo da una parte E dall'altra Vabbè Sti cazzi Non è un problema Nel caso lo metto Solo da uno E di là Ci mandiamo altre cose Comunque sono due canali Potenzialmente Di input È un po' più carino Lì stessa cosa Dobbiamo fare un canale Che si collega A quello lì E Porta dentro Roba Potenzialmente Sono due canali Nel senso È un bus Con due canali Che ha senso fare Per anche dividere Tutto il resto Che poi Se riuniscono là In fondo È un altro conto Ma va bene Lo stesso Io volevo portare A vedere effettivamente Questa parte riunita Non ci prega niente Anzi Lo volevo lasciare Io un po' di ferro Tipo Devo fare una cosa del genere Che fatica Vabbè Qui così E lui parte Uno stack È partito Anche dall'altro Così vabbè Possiamo passare Dal bus Forse è più comodo Fa tutto il giro Loro partono Vabbè Sono partiti Prima di me Faranno sicuramente Più veloce Si metto qua No Non vado più veloce Vabbè Vado Ok E arriviamo Nella zona Questa In cui si effettivamente C'erano gli incastri Qui fa un po' di curvette Però Giocate bene Non è un problema Qui si riuniscono Questo passa sotto Questo va lì Passa sotto E lì C'è Un sistema Che lo porta Dentro Il Il coso Con la soul sand L'elevatore d'acqua Con la soul sand Qui ci ho messo un po' di vetro Ci sono i bolle Non si vedono Ma ce so Giuro Adesso andiamo fuori Che gli item stanno qua Quindi questo è in trasporto Che da lì Te li sputa fuori di qua Pazzesco Ci sta un botto Secondo me A questo punto Non bisognerà Fare Mettere un operino qua E un minecart Che te li porta Semplice Dove li facciamo arrivare Allora l'idea sarebbe Quella di fargli partire qua Lui che pezzo mi fa Mi arriva qui Aspettate un attimo C'è sto ghiaccetto Che ho messo qua Che vola Ma è stracomodo Per fare i salti E andare da una parte e dall'altra Lui che cosa fa Da lì Tipo fa un giro Arriva qua Per forza Ce lo facciamo passare Qui passa qua sopra Curva Curva Lì Pillarone Per fare la curva E arriva dentro casa Dovrei arrivare anche lì sotto Tipo Così abbiamo il ferro buono Qui c'è tutte le armature Ne mettiamo molte di più Però ci sta Secondo me Allora Io non ho potuto fare Delle pozioni in live Perché per fare la lambicco Mi serviva Una Una Netherworld Sì Una cosa Una blazerod E poi però Per fare anche le pozioni Mi serviva la blaze powder Io avevo soltanto una blazerod Ma io non ero accorto Che avevo un altro bruin stand Qua Però a sto punto Possiamo fare una cosa Tipo queste cose Le possiamo portare di sotto Perché più senza tenerle di sotto Fare una zona Che pozioni carina Magari tipo Ma molto molto easy Cioè tipo Fuck that c'è Non posso Così per dire Guarda Oddio Stai impazzendo Grazie Tac No fa schifo Non mi piace Poi questo lo devo togliere Sì non quasi tanto però Ah questo lo metti qua Questo lo metti qua Quello lo leveremo Qui invece ci mettiamo Il Coso Perfetto Queste le le mettiamo dentro Queste le le mettiamo qua E siamo tutti felici e contenti Better Però se io non fixo sta cosa Impazzisco Grazie No Qui no perché sta troppo in prossimità Però tipo Se io lo mettessi C'è c'è il torce Eh Sì Anche così Esatto Va bene lo stesso La zona pozioni Molto molto easy Che poi andrà Sostanzialmente rivisitata tutta Perché faremo Pozioni automatiche No Non c'ho voglia È pallosissimo È tipo un altro Ricazzo per le pozioni automatiche Mostrose Mostrose Però vabbè Ci sta a fare una cosina Un po' più sofisticata Non si sia automatiche Che al 100% Ma che sia leggermente più Fatta bene No Il Bryce no perché è raro Cioè Costa tanto E non voglio utilizzare Non è blocco normale Perché adesso va benissimo Mi serve un altro paio di Di cose Così E fai E fai queste 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 effettivamente Non servivano Le Queste ce le abbiamo Che ci può servire I secchi d'acqua Poi faccio anche il clock Di là Così accumuliamo Risorse Qui a casa E va benissimo Quello che dobbiamo fare Sostanzialmente È alzarlo Ma proprio di un pelino Perché Perché ve lo dico io Perché Perché mi rimane più comodo Alzarlo Che tanto non si vede Va bene Va benissimo così Tac A questo punto Hopper Heinz Che punta Due cesta Tipo qui c'è l'hopper Qui c'è la cesta Qui c'è la cesta Va benissimo Questo va così Sono un coglione Sbagliato tutto L'ho messo qua sotto Perché qui ci va L'acqua Quindi qui va fermata L'acqua E qui ci va la cesta Giusto Forse anche un po' più Va bene Per carità La possiamo mettere sempre Che cade Possiamo fare una cosa del genere Guardate Per farmi spiegare meglio Qui c'è questo andato qua Questo metti così Questo metti così Se io metto questo sopra Un blocco trasparente Infatti non mi si apre Yes Però così posso farlo Brutalmente Se faccio una cosa del genere Guardate Ok lui ovviamente va dentro E' buona Semplice Rapido Indolore Certo così fa schifo Non si può veramente vedere Però l'idea è questa qui Ed eccoci qua Ragazzuoli Brutalmente il sistema Completo Al collasso Quasi Perché guardate un po' Che succede Se qua arrivano troppe Non ce la fa l'opper Però Se vanno lente Sì Così si vedono proprio Vedono carine Li vengono proprio Bam assorbite Tac 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 Un po' Un cono di bottiglia Forse Risolvibile Mettendo un altro Per qua dentro Per esempio Per esempio Per esempio Per esempio Non ho una crafting E niente Non avendo una crafting Non posso farlo Comunque L'idea Questo è quanto Ci sta Carino Mi piace È un sistema Di trasporto Per ora rudimentale L'ha sistemato Un attimo L'hanno fatto La sistemazione del caso Però comunque L'importante è che per ora Sia connesso E funzioni Questo è importante L'importante E la passa tutto Il nostro vero Poi faremo una parte Di collegamento Al mob spawner E così via Ragazzotti Penso che per questo video Possa tranquillamente Essere tutto Abbiamo fatto un po' Un riepilogo Sono andato veloce Un po' sconclusionato Quest'episodio Anche per il semplice Volevo farlo uscire Per le 2 Non ce l'ho fatta Sono le 2.20 adesso Uscirà per le 3 E c'è uno schelero Ciao bestia satanica Ciao E quindi ragazzotti Un bel mi piace Ci mettiamo in carreggiato Questo è il venticinquesimo Poi tireremo fuori 26 27 Così via Fino ad arrivare al 30 Sarà XXL Ragazzotti per questo video è tutto Grazie a tutti Grazie per la visione Mi raccontano il mi piace Mi raccomando il supporto mi piace Ciao a tutti ragazzi